Buongiorno a tutti radioascoltatori e ben ritrovati su Radio Artista. Sono le 6 e in vostra compagnia oggi ritroviamo la fantastica Cassani. Ed il notevole Sessa. Inoltre seguiteci in radiovisione sul canale 52 del Digitale Terrestre oppure sul centro 2 di Sky o tramite la nostra app. Caro Sessa, iniziamo subito la giornata con una canzone che dà energia. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi sono in compagnia di Filippo e Eugenio. Ciao e benvenuti. Ciao a tutti. Questa mattina vi parleremo del Festival di Sanremo, del vincitore Mammut, delle polemiche sul vincitore sui vinti, delle nostre preferenze musicali e chiederemo anche le vostre opinioni. Per iniziare mettiamo subito una canzone molto ascoltata direttamente dall'ultimo Festival di Sanremo. Mi raccomando, restate con noi. Buon ascolto. Mi chiede come va, come va, come va Sai già come va, come va, come va Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei È difficile stare al mondo Quando perdi l'orgoglio Lasci casa in un giorno No, dimmi sei Pensa vissola ai giorni, giorni No, dimmi sei No. Detta con noi Seguire. No.